Benvenuti su ClaudioMasci.com In questo video vi voglio parlare di un servizio che in realtà non è ancora attivo e disponibile per tutti ma è appena stato lanciato e molto probabilmente sarà disponibile intanto per pochi utenti a partire già dai prossimi giorni, poi se dovesse avere successo comunque sarà disponibile sempre per più utenti e è un servizio offerto da Firefox, quindi da Mozilla, gli autori del browser Firefox che permette di creare un alias, quindi un nome alternativo per un indirizzo email questo cosa significa che tramite questo servizio è possibile crearsi un indirizzo email falso da utilizzare per registrarsi su diversi siti web che ci obbligano ad inserire il nostro indirizzo email questo indirizzo funziona da alias, quindi funziona da sostituto per il nostro indirizzo email quindi noi colleghiamo questo falso indirizzo al nostro indirizzo email originale e tutto ciò che viene inviato a questo indirizzo viene automaticamente rigirato alla nostra email l'utilità di questo servizio è che in qualsiasi momento possiamo disattivarlo quindi disattiviamo questo alias e automaticamente non andremo più a ricevere le email inviate a questo indirizzo fittizio possiamo vedere intanto che il sito web è ancora in costruzione, infatti non ci sono ancora le immagini il sito web è relay.firefox.com e da questo sito possiamo vedere che intanto ci dice che possiamo tenere le nostre email al sicuro dagli hacker e dai tracker questo perché non saranno mai collegate, quindi nel caso in cui ci dovesse essere un furto di database su un sito web verrà rubata l'indirizzo email creato tramite questo servizio quindi gli hacker non potranno mai accedere al nostro indirizzo email reale ci spiega come funziona intanto possiamo vedere che ci dice intanto come un alias può proteggermi non dovrai più preoccuparti di dare il tuo indirizzo email stanco di ricevere email alle quali non ti sei mai iscritto i link per effettuare la disiscrizione per disiscriversi non funzionano utilizzando gli alias terrai il tuo indirizzo email reale lontano dallo spam, dalle liste di spam e lontano dalle compagnie di cui potresti non fidarti poi ci dice come funziona private relay quando un form richiede il tuo indirizzo email clicca il tasto relay per dare un alias al posto del tuo indirizzo email invieremo automaticamente le email dall'alias alla tua casella reale quindi riprenditi il controllo della tua casella se qualsiasi alias inizia a ricevere email che non vuoi puoi disattivarlo o cancellarlo completamente abbiamo poi il tasto add to firefox che ci permette di aggiungere l'estensione perché questo private relay è stato creato come estensione di firefox al momento ancora in fase sperimentale solo ad inviti c'è scritto che verrà aggiunta presto una lista d'attesa sul sito che abbiamo appena visto quindi su relay.firefox.com quindi sarà possibile penso iscriversi a questa lista di attesa per poter iniziare a testare questa estensione al momento come detto essendo solo ad inviti ancora pochi utenti l'hanno provata quindi non ci sono ancora molte informazioni al riguardo probabilmente come scritto sul sito ufficiale quindi ogni form quindi per ogni sito a cui andiamo a registrarci ci viene creato un falso alias quindi avremo diversi alias per diversi siti in questo modo non abbiamo il rischio di perdere qualcosa perché semplicemente se iniziamo a ricevere dei messaggi di spam o comunque se un alias dovesse essere compromesso ci basterà disattivare quello e avremo quelli degli altri siti web questa cosa penso che possa essere molto utile anche per capire da dove arriva lo spam perché possiamo renderci conto facilmente da quale alias stanno arrivando i messaggi di spam quindi disattivando quell'alias non li riceveremo più e ci permette quindi di capire se un determinato sito web sta diffondendo scorrettamente quindi magari senza il nostro consenso il nostro indirizzo email se state guardando questo video da youtube potete andare in descrizione troverete il link all'articolo e lì troverete il link sia al sito relay.firefox.com sia all'estensione comunque sono collegati tra loro infatti dall'estensione possiamo cliccare sul relay e dal sito possiamo cliccare su ad firefox quindi da un sito possiamo andare all'altro come detto essendo una estensione di firefox non sarà disponibile per chrome e per browser basati su chrome quindi sarà disponibile solamente per firefox non è detto che in futuro magari non possa uscire qualcosa di simile anche per chrome magari google andrà ad adattarsi nel caso in cui dovesse avere successo questa iniziativa di firefox personalmente apprezzo qualsiasi sforzo fatto per garantire maggiore privacy e sicurezza degli utenti e sicuramente questa di firefox è una bella idea perché davvero ci mette al sicuro il nostro indirizzo email perché non lo rende visibile fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti quindi scrivetemi se pensate che l'idea possa avere successo se la seguirete quindi magari cercherete di iscrivervi alla lista di attesa quindi per provarla e come sempre qualsiasi dubbio, suggerimento, richiesta scrivetemelo nei commenti e cercherò di accontentarvi vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo e ci vediamo al prossimo